Bella a tutti ragazzi qui per Anormal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo la nostra serie degli album dei calciatori panini e abbiamo quello del 2014-2015, l'album a cui sono più legato poiché, come vi ho semi-spoilerato nello scorso episodio, è quello che ho completato più di tutti, infatti c'è anche il marchio. C'erano anche i giochi della panini, infatti guardate ragazzi cosa ho avuto, questo non si vende, non si trova in edicola, questo sia solo al panini tour, la plastica personalizzata, questa è un'altra sorpresa, la plastica da mettere sopra l'album, macchine che passano, scusate, e davvero era stupenda, anche la copertina comunque è stata conservata bene, questo è l'album che ho conservato meglio, insieme a quello del 2015-2016, che vi farò vedere nel prossimo episodio. Andiamo a rimettere la plastica, l'album a cui probabilmente sono legato di più, perché è appunto quello più completo, perché il più completo? Perché ragazzi, non so se riuscire a vedere, se dovesse riuscire a vederlo, c'è il marchio dell'album completato, mi hanno messo il marchio, mi dovevano dare anche il gagliardetto, ma non me l'hanno dato. Tra l'altro di quest'album ho anche la targa di collezionatore, continuano a passare i motorini, ovviamente quando devo registrare deve passare il mondo. Altri regali che mi diedero sono queste due carte metallizzate molto belle dell'album. Andiamo a vederlo dunque velocemente, aveva questi bordi verdi che sono stati un po' criticati, me lo ricordo, però a me non dispiacevano, e si è ripreso un po' lo stile di due anni fa. Le maglie, questa volta erano fatte in tessuto, mentre gli scudetti metallizzati, e c'era appunto una carta con una domanda, un quiz, e la figurina, se la trovavi appunto, avevi la risposta. Abbiamo qui il Cagliari, il Cesena, devo dire questa collezione è quella a cui sono più legato, perché quello che ho ottenuto meglio, ma anche ovviamente le targhette trasferite o sostituito, è davvero il migliore. Ed ecco qui che abbiamo Lempoli, Lempoli, ragazzi, Lempoli è il futuro della Serie A. Abbiamo Luigi Sepe, Rugani, Tonelli, Isai, Mario Rui, Maurizio Sarri, che altro abbiamo? Abbiamo Valdifiori, Zieninski, Simone Verdi, ragazzi, che squadra, che squadra. Ecco qui la Fiorentina, abbiamo il Genoa, l'Ellas Verona, ovviamente procedo velocemente, l'Inter, qui veramente l'Inter era scandaloso. Davvero, in questo Inter giocavano bene solo Icardi e Kovacic. Juventus, sempre fenomenale, con l'acquisto di Morata, Coman, davvero fortissimi. Abbiamo qui la Lazio, il Milan, il Napoli. Questo Napoli di Minites, se non mi sbaglio, andò un po' maluccio. Vince la Coppa Italia, l'anno prima, forse. E qui, appunto, il tridente d'oro, Mertens, Insigne Cajon, ma che non era ancora il tridente, perché c'era lì davanti ancora il Pipita, secondo e penultimo anno del Pipita a Napoli. Abbiamo qui il Palermo, sempre fortissimo, ragazzi. Quanti giocatori avevano Vasquez, Di Bala e Belotti. C'è un tridente che non ha bisogno proprio di presentazioni. Abbiamo qui la Roma, che si è completata, con Mattia Destro, che allora sembrava davvero il futuro dell'attacco giallorosso. Il Sassuolo, ancora il Torino e l'Udinese. Calcio Mercato l'originale, questa volta i nuovi acquisti, o comunque le figurine che uscivano con il kit di aggiornamenti, venivano messe in questa sezione, come si è visto anche quest'anno. Per il Napoli c'erano Strinic e Gabbiadini. Abbiamo qui la Primavera e poi abbiamo qui il fine del campionato, sempre molto bello. Cosa c'è da dire? C'è da dire il gol che fece Totti contro Lazio nel derby, c'è da dire l'alto rendimento di Di Bala, che già stava diventando il super campione che è ora, l'alto rendimento anche di Felipe Anderson. Proviamo velocemente con la serie B, organizzata in questo modo. Ok, qui si erano attaccate due pagine, aiuto. Catania, che era finito in serie B. Abbiamo il Crotone, il Frosinone, la Tina. Ok, le figurine sono un po' attaccate tra di loro, cosa un po' strana. Ok, questa serie B non aveva grandi squadre. e qui abbiamo la Liga Pro. Liga Pro ancora una volta si attaccava e non era già stampata. Lo scudetto della Federazione Italiana Gioco Calcio dell'Italia e poi l'Italia che verrà. Abbiamo qui i vari talenti italiani. Andiamo a vedere quali di questi talenti sono diventati davvero dei campioni al giorno d'oggi. Allora, abbiamo Scuffè, che è stato un po' la meteora, poi non è diventato quel campione che si pensava potesse diventare. Biraghi, intanto la maglietta dell'Italia era bellissima. Romagnoli, beh, Romagnoli sicuramente dato al Milan è diventato un gran giocatore. Zappa Costa, Baselli, Benassi, tutti i tre al Torino, tutti i tre bei giocatori. Crisetig, Rizzo, Rizzo e Ceri sono quelli là che meno si sono realizzati probabilmente. Belotti, Berardi e Bernardeschi. Con tutte queste B mi sto confondendo. Beh, Belotti, grandissimo attaccante del Torino, cercato dal Milan è diventato un topene incredibile. Berardi, ancora Sassuolo ma sappiamo tutti le sue grandi qualità, e Bernardeschi che è stato appena acquistato da Luigi Ventus. Dunque, l'Italia che verrà era una buona Italia. E cos'altro abbiamo? Niente, finito. Questo era l'album. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così stato mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Da parola, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!